Ti presentiamo Platinum Amazing Foam, la straordinaria schiuma pulente tutto in uno che ti aiuterà a far brillare la tua auto nella comodità di casa tua. È davvero semplicissimo da usare. Applica Platinum Amazing Foam, lascialo agire, rimuovi il prodotto ed è fatta. Guarda! La macchina tornerà completamente pulita e super splendente. Platinum Amazing Foam pulisce e ti aiuta ad eliminare anche le macchie più insidiose. Vetri e finestrini ti consentiranno una visuale perfetta e i fari saranno nuovamente pulitissimi, mentre i cerchi e gli pneumatici splendenti come non mai. Anche il cruscotto sarà come nuovo grazie ad Amazing Foam. Nel momento in cui applichi il prodotto la schiuma fa subito effetto, agisce direttamente sullo sporco aiutandoti ad eliminare polvere, sporcizia e macchie. E infine ti basta rimuovere la schiuma e lasciarti stupire dai risultati. Lasciati coccolare da Platinum Amazing Foam, la schiuma tutto in uno per la pulizia della tua auto che ti aiuterà a far splendere la carrozzeria e gli interni del tuo veicolo. Guidare sarà uno spasso! Chiama per informazioni su Platinum Amazing Foam all'incredibile prezzo che vedi sullo schermo. Inclusi nel prezzo il flacone da 1,2 litri di Platinum Amazing Foam con il pratico erogatore e un flacone da 1 litro di Platinum Amazing Foam da usare come ricarica. Chiama per informazioni o visita il sito ultimarrivi.com in omaggio il pratico guanto multiuso per la pulizia di interni ed esterni. Ma aspetta non abbiamo finito! In omaggio la speciale ricarica da 3 litri di Platinum Amazing Foam. Sì, hai capito bene! Chiama per informazioni o vai sul sito ultimiarrivi.com